yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del market watch a questo giro per vedere un po di ruine spazi che sono state annunciate tra cui la reprint del retro pack 1 insieme poi ad alcune carte che sono salite qualcosa è sceso ma andremo a vedere dopo ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto del retro pack 2 quando uscirà oppure l'odd che diciamo è già in prevendita io un boxettino me lo farei mette da parte detto questo quindi se volete supportarmi e ovviamente avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per jack store il miglior negozio per l'acquisto di prodotto giapponese e coreano hanno pure roba abbastanza spicy tipo ve la butto lì gradate carte di yuki della bandai vecchie slip particolari poi ovviamente i soliti box coreani e giapponesi sia di yuki che di one piece anche per quello referral link e codice sconto sempre qua sotto inoltre se volete liberarvi carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo andiamoci un po a vedere cosa è successo bene erenz andiamoci un attimo a vedere quali sono gli ultimi annunci poi andremo a vedere un po i prezzi delle carte allora uuu carini abbiamo la nuova collaborazione di yugioh con petatto o su wari hanno fatto peluche statuine dei quattro personaggi delle prime quattro serie questo cosa vuol dire che vrains e seven hanno fatto schifo e quindi niente carini ci sta anche ark b sì sì no questi non li voglio vedere assolutamente dentro casa mia perché sono sicuro che mi sgozzano la notte ma ok dettagli guarda allora yuki e yusei cioè sono tutti fatti bene perché jayden gli hai fatto gli occhiolino porca madonna mi sembra un po eccessivo eh però allora ma dai non posso dire quello che penso realmente però dai io mi prenderò yusei ti giuro io secondo me yusei tra i quattro è più bellino poi vabbè anche yuma non è male yuki non mi convince più tanto poi sì l'occhiolino mi sembra un po too much ma ok l'occhiolino cioè capisco che dentro c'è yubel ma non l'ha mai fatto l'occhiolino anzi dopo che si unisce con yubel è mega incazzato e spacca il culo a tutti sì va bene adesso sorvoliamo su questa cosa vedremo no no non si sorvola con ami di no volevo dire vi voglio bene uscirà il 15 giugno lo staremo a vedere adesso e soprattutto quale sarà il prezzo perché se è umano uno potrei pensare di prenderlo ma se il prezzo è umano altrimenti rimane lì perché tanto non ho posto dove metterlo io yusei lo prendo sì sì poi andiamo alle statue fighe quelle per cui andrà via del denaro dal mio portafoglio ovvero io questo mica l'avevo visto eh sì questo questo è veramente potente uomo lato della fiamma secondo me non è tra i più costosi perché dopo vedremo delle statue ancora più fighe secondo me il budget sarà molto più alto però però io pensierino su questa ce la farei eh mi sembra 13.200 sì 13.200 yen quanti euro sono ma 13.200 yen beh non è un cazzo 70 77 euro e 33 me lo posso accollare ma ne prendo sette no vabbè non è la la statuina da 20 euro però diciamo siamo sotto il centone quindi assolutamente va bene vediamo se c'è un'altra foto anche questo non è assolutamente male anzi secondo me questa è ancora più bella con l'ala aperta ci sta ma non è che è lo stesso semplicemente senza che gli attacchi la palla è lo stesso sono le varie pose che puoi metterlo belle mi piacciono puoi fare le posizioni per 77 euro porca puttana in casa mia sì diciamo che queste sono le nostre bambole ma andiamo una bambola ancora più figa questo questo sta ma questo è fisso in piedistallo non si muove però è bello però costa anche meno 56 dollari ok e secondo me questo è molto più dettagliato cioè ci sta è figo mi piace però vabbè ok fa il suo è fermo e poi ci sono queste ecco queste sono secondo me un po fuori budget non ti dicono il prezzo usciranno ad ottobre si ci hanno pure i peli del buco del culo per quanto sono dettagliate quello che è quello che ti sto dicendo la faccia della faccia di tutti e tre cioè c'è obelis che li vedi le rughe sì sì no no sono palesemente perfetti slifer ovviamente no sale con la base in pietra sono bellissimi tutti e tre non riesco a trovarne uno meglio ricompri tutti e tre te li metti in sfondo pregando che non siano alti come te sì ma sì no cittana sta roba costa troppo roba costa costeranno almeno 500 euro uno ste robe di base poi sarà una statuina statuina una statua così almeno guarda io mi ricordo che ne avevo una di fairy tale di di natsu con i gnil è che è tutto un tavolo e si illumina anche il prezzo in pre sale era 3.000 dollari perfetto le cinque perfetto le cinque adesso se la vuoi comprare costa 5.000 sorvoliamo tanto non non ho un euro neanche per piange figuriamoci per comprare una statua del genere il token sì parlando proprio di token in corea rilasciano questi due uncut sheet uno con la versione col drago bianco il drago nero e uno con la maga nera che potrebbero essere interessanti allora che potrebbero essere interessanti sono mille copie l'uno quindi secondo me sarà quel tipo di pezzo da collezione che toccherà almeno i 2.000 euro l'uno più o meno considerando che la roba che ho vinto io sta all'incirca sui 3.000 questo è in coreano il coreano fa schifo a tutti quindi ci sta che costi un pochino ne meno però è una cut sheet e quelli fanno gola collezionisti il problema sono tutte le carte intorno che sono una merda no è tutto tematico prima la unity si rifà solo a yuki però vabbè quella sinistra un po più carina perché si rifà degli agonisti anti eroi a parte joy e solo in mezzo a kaiba e zain è proprio un minchione senza offesa per il drago nero occhi rossi è però nel senso dai vuoi mettere il cyber drago finale joy dai è una merda andiamo avanti allora passiamo adesso alle notizie interessanti perché ragazzi konami ha deciso di reprintare il retro pack 0 1 il 23 agosto verrà rilasciato 23 agosto così presto porca troia si no vecchio ho letto la cosa più brutta del pianeta cosa e gi sotto nord america a noi non esce voglio morì perché ho capito perché l'hanno ristampato perché gli americani hanno rotto il cazzo perché non ce l'hanno mai avuto però si sono dimenticati nel loro stupido cervello del day in clean merda che hanno avuto dark legends che era la stessa cosa voglio morì va bene ragazzi il 23 agosto potrete ordinare dall'america il retro pack 0 1 ragazzi un set incredibile dove all'interno ci sono tante carte interessanti ovviamente ha lo stesso print vecchio davvero si ha lo stesso print vecchio allo vecchio layout ti hanno messo le carte sotto come esempio per quello avranno quell'esatto cazzo di layout le figurine ragazzi si potrà sbustare il retro pack 0 1 riprintato col vecchio layout cazzi e mazzi siamo tutti contenti con la foliatura americana perché noi non l'avremo e siamo tutti bello io non sono contento vaffanculo allora un box costa tocca comprarlo per forza non mi importa quanto lo andrò a pagare lo voglio però via via tocca contattare tua zia assolutamente e farci mandare una cassa di questa roba poi ce la smezziamo ci pensiamo capiamo quanti soldi dare a lei però nel senso una cassa bisogna sbustarla per forza per fare ovviamente il master set di questo set andiamo a vedere effettivamente quali sono le carte più interessanti che possiamo trovare e anche quanto costa effettivamente il prodotto attualmente a noi vediamo una bustina in italiano così è curiosità è una bustina una bustina 140 euro interessante posto come minimo è anche espansione mix del 2007 si si andiamo a un blister non c'è non c'è dall'italia vediamo se dall'estero effettivamente ci danno questa possibilità l'inglese può essere ci danno questa possibilità dio cane no in inglese vale troppo perché in inglese devi capire che è stato un printato di meno è assurda come cosa mi è stato printato di meno per crescita solo nel regno unito in inglese americani che ciucciano cazzi un po può essere perché sta merda non è uscita manco in australia non esiste questo io scommetto io scommetto che quello in tedesco costa di meno perché l'hanno fatto per l'austria la germania lussemburgo il belgio e ma sai allora che non non escluderei il raggiallo raggiallo una bella reprint raggiallo c'era in america come però ma mi potrei aspettare una reprint considerando quello che stanno facendo il loro andazzo sì ma vabbè vabbè interessante vediamo quali sono le carte più belle di questo prodotto effettivamente che possiamo no che possiamo effettivamente avere avremo la cyber lady arpia vogliamo effettivamente vedere il valore no non vogliamo effettivamente il valore perché annotiamoci questo partono la cifra senza senso e probabilmente quei primi prezzi sono dei poor vediamo questa questa interessante l'ho detto che era un poor il primo prezzo questo copiatore interessante 300 euro quella merda 180 me lo ricordavo più alto forse un po' sceso il kaibaman kaibaman sarà una cifra senza senso probabilmente eh no kaibaman io ce l'ho questo come mi come minimo in america kaibaman appena esce sta tipo a infinito perché sono tutti kaibaman però però lo sfizio di sbustarlo ce lo dobbiamo levare assolutamente certo io ho aperto tipo tre bustine nella mia vita ovvero quello del pacchetto che mi ha regalato mia madre appena uscito è fine guarda anche l'odd l'odd è questo tocca aprirli per forza l'odd non ispira tanto perché non ha aperti talmente tanti che sticato eh lo so ma io voglio tornare a essere giovane come un tempo ok ok sono molto soddisfatto grazie conami per averci escluso ovviamente dalle cose belle della vita e ok io continuerei adesso ragazzi ad analizzare quello che è il mercato e cosa è successo però conami se mi stai ascoltando una cassa allora non vuoi portarlo in europa va benissimo però una cassa l'indirizzo qua sotto lo lascio in descrizione è ben accetta anzi contattami su instagram via mail che mettere così l'indirizzo a caso potrebbe non essere molto worth però mi scrivi via email o su instagram ti rispondo mando indirizzo e siamo a posto anche uno per erenz poverino se no si sente escluso oppure uno in due non va bene però no una cassa a testa ma anche uno in due va bene nel senso accettiamo anche un box a testa nel senso almeno per i filz anche 12 bustini qualcosa un abbraccio un abbraccio un abbraccio conami considerando con quanto costa la cyber lady arpia adesso non ti chiedo la cyber lady arpia ma al drago bianco chi blu ma no dai mi sembra chiedere troppo il drago bianco chi blu sta 75 euro non rupe il coglioni un drago del tuono comune a te uno in due un drago del tuono comune dai basta vai avanti col mercato allora andiamo a vederci ragazzi effettivamente cosa è successo al mercato perché va bene abbiamo visto com'era un po' l'andazzo delle carte post reality settimana scorsa ovviamente i prezzi sono ancora calati anche delle carte non li andremo a rivedere adesso perché non è importante però ci sono altre carte relazionate a quelle e a cui sono state annunciate i supporti che effettivamente sono cambiate e andremo a vedere nel pratico proprio quelle partiamo dalla prima abbiamo io mio perché adesso capisco perché un ragazzo quando ho aperto l'ultimo lotto mi ha detto ma guarda che hai schippato white duston in che senso l'ho schippato è un mosto normale di merda che non è mai fregato a nessuno ok che c'è monoprint può essere perché short print un pochino si è salito e basta bene ho scoperto che si gioca in fiamme smith adesso andremo a vedere il suo valore ringrazio erans per avermi regalato regalato venduto i suoi set di carte divisi dove c'è il valle ce ne stanno sei e quelli sono dei soldi però dovrò tirare fuori tutto il bike e sperare di trovarne altri 500 la cosa positiva è che i mosti normali sono divisi tutti in una scatola e godo un pochino però ok primo play set ita nm 4 euro e 30 interessante io ancora dovrò capire come funziona sta roba visto che parliamo di fiamme smith e non non l'ho messo tra le carte c'è il il nostro amico l'urri mi sembra sì il favoloso l'urri che anche questo comune la troia ragazzi io vi ricordo che arzenai nascosto capitolo 1 non stancazzo è pieno di carte stra mega potenti è quindi se volete comprare una cassa e casse stanno sparendo ovviamente capite quanto è malato il mercato quando la gente fa sparire una cassa per una carta che non si sa neanche se farà effettivamente qualcosa dai no è rimasto costante però no ragazzi no a parte che il prodotto è ottimo la gente non l'ha ancora capito ma c'è tanta roba per retroformat e la roba dual terminal è tutta salita quindi è un po così poi capisco che non mi interessino le carte ma effettivamente hanno del valore ebbene top anche l'urri sta a 4 euro comune è super me chiedi troppo cioè vuoi effettivamente sapere quanto costa una carta che comune sta guarda facciamo ti dico quella dual terminal finto ragazzi vi ricordate quando tipo 5 minuti fa ho detto che le carte dual terminal sessori valutate tutte ecco tre secondi fa eh ma sì io prenderei però rocolato quello che dico a volte perché metti 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 quella da k02 ah sei cioè sono avido sta quasi a meno quella da dual terminal è più rara no è più nuova ed è più nm di sta roba quindi però comunque 8 euro quando le pagate 1 sì sì no venduti più alti stanno su 10 euro eh questa è tutta roba da bike che dovrò ritirare fuori sì sì a me ne sono spariti ovviamente un paio però vabbè azz eh già io ne avevo qualcosa come 8 ne ho magicamente 4 vabbè va bene va bene perdono tra il bulk io controllerei meglio anche chi faccia entrare in casa così eh consiglio se ci sono già passato allora no no sono sicuro che sono tra il bulk quelle andiamo avanti abbiamo oh la roba squalo ragazzi in rage of abyss mi sembra che si chiami l'espansione ci sono i nuovi supporti squalo e quindi ovviamente abyss shark non lo fai salire a un prezzo insensato ovviamente sì ah prima li vado a comprare a 4 euro eh sì sono un po' scesi no no tranquillo sono un po' scesi avevano toccato i 15 luni infatti i miei lp li avevo messi a 9 euro però no sono un pochino riscesi adesso vedremo se li risaliranno quando ci avvicineremo all'uscita dell'espansione ok poi altra carta molto interessante sempre per shark che funziona con i barian è questa settima ascensione credo credo funzioni con shark perché ho letto barian e ho detto ah questo è un shark però non ne sono così tanto convinto boh c'è scritto alzarango magico boh mi sembra una carta squalo facciamo finta che c'è credo sì sì carta squalo hai simatrix parte supporto dai ragazzi non abbiamo simatrix qua non ce non ce la può spiegare però sì carta squalo carta supporto nel caso scrivetemelo qua sotto nei commenti perché sono troppo poco motivato in questo momento per leggere un effetto di 10 righe sinceramente non me va però considerando il set che è tipo led 9 no scusate no è la leggenda di duelist con mako molto probabilmente funziona con gli acqua soprattutto perché è il funziona con i bariani quindi bariano era l'alzalango magico del il tipo di zextra che giocava le mostri acqua non so se era lo stesso shark la sua versione alternativa è ok va beh anche questo è salito teoricamente da come ho visto tipo anche draghetto squalo era salito adesso controllo draghetto squalo solo per voi in real life vediamo quello da ultimate quello ultimate così beh diciamo che da è un po salito da 9 a 28 mi sembra un bel plus controlliamo anche ultimo capisco allora perché quel tipo sul market stamattina me l'aveva in carrellato e era sotto prezzo mi si spiegano un sacco di cose grazie bene 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 sembra un ottimo raggiungimento non acquistato alzerò il prezzo un prezzo insensato poi o curi fotonico ragazzi sono stati annunciati nuovi supporti fotonico incredibile e questa è una carta fotonica magia ovviamente come qualsiasi carta fotonica che si gioca slash non si gioca perché non lo so in quanto io non ho mai giocato fotonico ovviamente il prezzo è salito si è venduto fino a 38 centesimi cazzo è te lo saresti mai aspettato curi fotonico fino a 38 centesimi io no fotonico cerchiamo la parola fotonico sul market mettiamo griglia e vediamo qual è la carta più costosa o il drago fotonico ghost ma non credo sia salito questo poi controlliamo qualche altra carta ma anche questo spesso sia poco rilevante lui stessa cosa vorrei una carta un po spicy una che non si incura nessuno che stava tipo a due centesimi e mezzo vabbè tutta roba ultimate stra mega esotica vabbè questo è collector dai su datemi datemi qualcosa di godurioso non c'è niente orbitale fotonico velo fotonico velo fotonico velo fotonico è un ulti quindi non beh dai un pochino fino a 10 euro però vabbè quello sicuramente leggermente salito poi nel senso altro lo scopriremo andando avanti tanto i market watch ragazzi escono tutte le settimane se ne trovate qualcun altro scrivetemelo qua sotto nei commenti con annessa motivazione almeno così non me la devo cercare io io volevo dirti semplicemente che velo fotonico ai tempi stava a meno 5 euro quando lo sbustavi da foton shockwave e volevi morì in quel momento ma no madonna con tutte le ultra che potrei trovarti tipo laggia sbustavi o vediamo un po velo fotonico prendevi un coltello se lo infilzavi qua e morì oppure regal dono xis oppure peggio no era in genfi il patrollatore psichico il poliziotto psichico che schifo perché dobbiamo farci del male basta andiamo avanti allora o prossima carta babbo artigli la mia carta preferita sì soprattutto perché fino allora fino a due mesi fa si lamentava no ragazzi 20 babbo artigli non si vendono che cazzo 2 euro basso sempre il prezzo non si vendono adesso ragazzi grazie al fatto che si gioca in tempi decide da come ho capito 8 euro contento ho 15 15 o 20 per adesso non mi ricordo sì non è molto contento ringrazia c'è una certa persona per averti dati tutti a un prezzo tipo regalo è ok grazie a pensavo grazie joshua smith non credo joshua smith andiamo avanti dai su vabbè non valevano un cazzo al tempo stavano a 2 euro l'uno li ho presi a bulk poi abbiamo araldo della disperazione no è disperatrice dell'araldo allora sto cosa ragazzi va il prezzo un pochino più alto leggermente salito perché non stava all'interno della rarity molte persone se lo aspettavano sì c'è poteva sta ma c'è poteva sta anche il tridente molto probabilmente questa sarà insieme al tridente nei tin la butto lì anche se comunque una stampa la tincia però una reprint da qualche parte me lo aspetto nel battagli della leggenda nuovo non credo però nel senso sicuramente una reprintatina di ots super rari sarebbe un bel omicidio per una carta è sì però c'è scritto che ci saranno stori stampe di carte usate attualmente e che sono hanno stampe vecchie quindi probabilmente o la roba melodiosa o la magia o tipo ondata di calore o lei ci posta se gioca in voiceless poi andando avanti abbiamo o la trust uguale è cambiato un cazzo mi ricordo qualcuno che diceva che questa carta era una carta che sarebbe stata rimasta a 100 euro no però nel senso il problema è che è stata ristampata in maze cioè no no è una battuta ah ok non era non faceva ridere non è era una battuta che non potevi comprendere sta in silenzio sta in silenzio che apri bocca e fai chiammi le palle allora oh signora casci tira ferri che è salito perché tipo non stava all'interno della raditi può essere vabbè è bello anche lui sì sì bello pulito ragazzi non ci poteva stare all'interno della raditi perché l'hanno reprintato nei team quindi è inutile che lo chiedete non è possibile vabbè poi avanti la carta che sta salendo non sappiamo il motivo non ce lo chiedete non lo vogliamo scrivetelo scrivetelo giù nei commenti la stessa cosa che ha detto il tizio del video che ho guardato perché questo l'ho rubato da un tizio non lo sapeva non lo sappiamo neanche noi scrivetelo nei commenti ragazzi delucidati di sta cosa perché non ci sto capì in cazzo dai ultime tre carte ragazzi abbiamo o questo ovviamente per i supporti sarcofagus che c'è ovviamente lo suo science worldman e sta salendo un po ce ne è pochissimi in italiano e in inglese e si è venduto fino a otto euro grande proprio il mercato sano questo è il mercato sano per un mazzo di merda vabbè ma c'è una monoprint in un set del cazzo quindi ci può anche stare e ti ho rubato la frase è bravissimo poi ultime due abbiamo allora anima svincolata ed angoscia ragazzi anche questa è salita perché ovviamente non ha ristampe e tipo hanno ristampato no ha una ristampa quella da mp ma se prima si poteva lucrare su quello blu adesso quello blu è stato ristampato anche la magia quindi bisogna lucrare assolutamente su questa mi sembra normale e ultima carta l'illusione acqua specchio per roba gish che non so perché non lo so io l'ho scoperta ieri per sbaglio caricando una carta io l'ho scoperta adesso per sbaglio e sono felice ne ho 70 è questo bene ragazzi dopo questo io chiuderei ragazzi ovviamente grazie mille per aver visto il video vi invito ovviamente a passare da fantasia store da jack store di lasciare un like e di iscrivervi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti